Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Technology, questo è l'ultimo per partita della stagione, voi sapete che da agosto fino ad oggi ho fatto tutti i pre partita delle partite dell'Inter e anche tutti i commenti, domani arriverà l'ultimo della stagione che probabilmente sarà anche l'ultimo del mio canale. Io ho aperto questo canale più di 4 anni fa, no scusate, quasi 4 anni fa perché l'ho aperto nel dicembre 2014 e ci mancano diversi mesi a dicembre 2018, comunque più di 3 anni fa e ve ne ho parlato anche in un video che ho caricato quest'estate, ne ho passate tante, sono successe tante cose, tante emozioni, tante difficoltà e sono arrivato ad un traguardo che sicuramente è nullo per Youtube ma che per diverso tempo mi ha gratificato molto. Ho pochi iscritti, ho poca gente che mi segue soprattutto adesso ed è anche per questo che dopo questa stagione concluderò il mio percorso su questa meravigliosa, anche se un po' particolare, piattaforma che è Youtube. Ormai tutti fanno video riguardanti il calcio, tutti esprimono la propria opinione come è assolutamente giusto, diciamo che però quando sono entrato a far parte io di Youtube le cose erano un po' diverse, quindi non mi ci riconosco più. Comunque l'Inter sarà sempre nel mio cuore ed è anche per questo che ho deciso di continuare a commentare nelle partite della beniamata Inter e a fare i per partita anche in questa stagione. E ragazzi domani sera finalmente, perché è una settimana che l'aspetto, ce la faccio più, ci sarà Lazio-Inter allo stadio olimpico di Roma, si chiama ancora così, non so perché sono successe da me tante cose, sì penso di sì. Sarà probabilmente, no anzi sicuramente la gara più importante della nostra stagione, domani ci giochiamo tutto senza giro di parole, domani si decide il nostro cammino, la nostra storia, la nostra stagione soprattutto, se vinciamo domani andiamo in Champions, se perdiamo no, anche se pareggiamo in poche parole. E' importante vincere perché vincendo lo scontro diretto, cioè per gli scontri diretti, poiché all'andata abbiamo pareggiato, andrebbero in nostro favore, la differenza a reti non si considera perché si considerano prima gli scontri diretti e quindi è un'occasione più unica che rara. Dipenderanno molte cose da domani, se vinciamo possiamo riscattare diciamo Rafinha, Cancelo, se perdiamo oppure se comunque non andiamo in Champions, no, la Champions è molto importante, dipende anche dalla Champions la permanenza di Mauro Icardi, insomma è una gara delicatissima e assolutamente importantissima. Cosa penso di questa gara? Penso che appunto sia molto complicata, penso che la Lazio sia favorita perché è in casa e perché quest'anno ha dimostrato di essere forse superiore, ma noi abbiamo dimostrato che se vogliamo, quando vogliamo possiamo essere veramente unici, oltre che pazzi come abbiamo sempre dimostrato nella nostra gloriosa storia. Pronostici? Io vorrei farli, però è difficilissimo. Come terminerà secondo me questa gara? Non lo so. Più che altro mi interessa sapere come terminerà secondo voi, fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Io penso che sarà una gara molto combattuta perché entrambe le squadre si giocheranno un obiettivo importantissimo e insomma la Lazio si può accontentare anche di un pareggio, noi no, ma tenterà assolutamente di vincere e di renderci la vita impossibile con i propri tifosi. Che la acclameranno da primo all'ultimo, ma a Roma ci sono anche molti tifosi interisti e spero che questo possa influire positivamente per noi, visto che comunque siamo fuori casa e fuori casa è sempre dura, insomma, giocare partite di questo calibro, partite del genere, con questa tensione. Pronostici per quanto riguarda il risultato non ne posso fare, insomma ragazzi, spero invece che possiate farli voi e fatemi sapere nei commenti come finirà secondo voi. Noi ci vediamo domani sera con l'ultimo commento post partita della stagione e probabilmente anche il mio canale. Dai ragazzi, dai Mister Spalletti, dai Cardi, dai Inter domani mi devi regalare questo sogno, ci devi regalare questo sogno che aspettiamo veramente da troppo tempo. Dai ragazzi, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare perché diciamoci la verità, ce la meritiamo, ce la meritiamo, dobbiamo dirlo. Noi ci vediamo domani sera, sempre e comunque forza Inter, comunque vada, però prendiamoci sta Champions, cioè oddio, arriviamoci, prendiamoci. Ciao ragazzi, forza Inter.